In Toscana l'economia circolare non è un miraggio e gli accordi come quello da 80 milioni stipulato con il settore conciario o quello siglato con il tessile per il riuso degli scarti di lavorazione lo dimostrano, lo ha detto il presidente della regione Enrico Rossi intervenendo alla tavola rotonda Economia Circolare, un'opportunità di lavoro organizzata dalla UIL al Museo del Tessuto di Prato, da cui ha sollecitato di nuovo una legge nazionale per garantire un'effettiva tutela di ambiente, lavoro e salute. Questa purtroppo ancora non c'è, la chiediamo al Ministero, abbiamo proposto al Ministero di dare una delega alla regione qualora trovassero difficoltà e questo sta nel quadro della nostra richiesta di autonomia. Noi vogliamo un'autonomia temperata ma vogliamo dare risposte alle domande che ci vengono dal nostro mondo imprenditoriale. Rossi ha poi ricordato il dialogo aperto anche con il settore del marmo per incentivare il riuso della marmettola e con il distretto dell'oro per una Toscana che sappia governare e rinnovare i cicli produttivi.